Da poco meno di un mese, cioè dal 19 luglio, è online La Lettura, il nuovo canale digitale di Corriere.it, il sito del Corriere della Sera, con l'obiettivo di accompagnare i lettori ora dopo ora, tutti i giorni della settimana, arricchendo l'informazione culturale dell'omonimo inserto domenicale cartaceo di 48 pagine. Sul sito sono presenti contenuti originali nati per il digitale, raccolti in apposite sezioni della home page, una fascia dedicata alla recensione dei libri con la possibilità per i lettori di dire la loro, video interviste ad autori e video rubricche su singole mostre, nonché blog tematici. La Lettura, dopo aver chiesto a sei architetti, Vittorio Gregotti, Mario Botta, Stefano Boeri, Cino Zucchi, Mario Bellini e Carlo Ratti, di raccontare la loro piazza del cuore, ha lanciato nei giorni scorsi un gioco social, girando la domanda ai lettori che hanno risposto con quasi 10.000 tweet attraverso l'hashtag La Mia Piazza. Il risultato vede la nostra Piazza Unità d'Italia in testa nella classifica, come segnale il Corriere della Sera sia sul sito che a pagina 33 dell'edizione odierna. La bellezza maestosa della piazza, che fece da teatro alle inquietudini di Italo Svevo, ma allora, ricorda l'autrice dell'articolo Roberta Scorranese, essa si chiamava Piazza Grande, ha la meglio su Piazza del Campo, la famosa sede del Palio di Siena. E Trieste raccoglie anche i commenti più entusiastici. Una lettrice scrive Svevo, Saba, Joyce e io bambina, un'altra ferma e così bella che anche il suo riflesso sul portatile è magia. Sono state tante comunque le piazze citate dai lettori, dal centro storico dell'Aquila, ancora ferito dal terremoto del 2009, a Verona, dalla bella piazza Stesicoro di Catania a Lodi, passando per tante località in Umbria, Marche, Puglia, eccetera. Un gioco social forse non scevro di campanilismi, ma la sintesi dei tanti messaggi pervenuti sul sito della lettura è ben rappresentata dal lettore Notturni7 con il suo tweet «Quanto è bella la mia Italia, la amo!»